Ciao, White! Ciao, Pinguin! Avete finito di mangiare? Allora è ora di giocare! Ehi, non vi state dimenticando qualcosa? Dopo aver mangiato bisogna raccogliere e buttare la spazzatura Il bidone è già abbastanza pieno Ciao, Sue! Ma Sue, vuoi davvero lasciare tutto così? Ehi, non vi state dimenticando la spazzatura è la terra, White è triste perché è piena di spazzatura come possiamo aiutare la terra a sbarazzarsi di tutti quei rifiuti? guardate, se ricicliamo la carta che abbiamo usato ne otterremo di nuova ogni cosa ha il suo bidone bravissima, Tigress! oltre a riciclare, possiamo riutilizzare le cose per crearne di nuove come un teatrino oppure i vasetti per i fiori molto originale o anche i giocattoli ottimo lavoro, squaletti abbiamo riciclato tutti i rifiuti